Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Ne ha parlato Papa Francesco, dando l'allarme, troppe donne incinte licenziate Ne parla Massimiliano Bruno nel film Gli ultimi saranno gli ultimi, in uscita il 12 dicembre E ne ha parlato ultimamente anche la 27esima ora, che era una rubrica del Corriere.it con la storia di una giovane fotografa che durante un colloquio alla domanda Sei sposata? Convivi? Hai figli? Ha deciso di non rispondere Quell'uomo non ha voluto scoprire le mie capacità, mi ha cacciato dalla sua agenzia solo perché mi sono rifiutata di dargli informazioni sulla mia vita privata Ma io ho esercitato il diritto di difendere la mia privacy, ha spiegato la ragazza Secondo te questa ragazza ha fatto bene a non rispondere oppure no? Secondo me ha fatto bene a non rispondere perché è una donna solo per il fatto che è sposata e penalizzata per il fatto di essere donna perché sanno che assumendola sei incinta poi andrai in maternità e è un costo per l'azienda però allora di questo passo le donne non hanno la parità cioè non è giusto perché a un uomo queste domande non si fanno se ha figli e lo trovo decisamente discriminatorio Nella sua vita lei sarebbe stata disposta a rinunciare al desiderio di diventare mamma per non rischiare di rimanere senza lavoro? No, assolutamente no Io ringraziando il cielo cioè io avevo dei genitori anziani, degli zii anziani io mi ero iscritta a giurisprudenza però poi ho smesso perché allora le badanti non esistevano, non si usavano ed era necessaria la mia presenza a casa quindi io ho fatto questo atto di rinuncia di non lavorare poi per fortuna potevo permettermi di non lavorare quindi non ho mai lavorato in vita mia però io non avrei mai rinunciato a dei figli infatti ho due figli ma anche qualsiasi lavoro io avrei fatto la stessa cosa di questa ragazza non avrei risposto perché me ne sarei andata anzi anche insultandolo perché è assurda una domanda di questo genere Forse sì, ha fatto bene perché poi non penso quanto dipenda se una ha famiglia, figli eccetera cioè se una che lavora deve sapere se è brava a lavorare o no all'ilà della vita privata Secondo te il datore di lavoro aveva paura di ritrovarsi poi una dipendente che sarebbe andata presto in maternità oppure era semplicemente un frutto di una curiosità personale? No, no, può essere appunto che magari se l'assumeva subito magari dopo poco rimaneva a casa perché è in maternità però questa è la cosa della vita quindi se è una donna è giusto che deve lavorare e quando ha dei figli deve stare a casa, giusto così quindi sì, ci sta che un po' il datore di lavoro aveva paura però vabbè, non penso che sia un grosso problema Chiederesti mai a tua moglie di rinunciare alla volontà di avere un bambino, un figlio con te per evitare di rischiare di perdere il lavoro? Non lo so, nel senso perché il lavoro è importante però è importante anche la famiglia è giusto che ognuno di noi si costruisca una famiglia e abbia dei figli La priorità quindi qual è? Forse il lavoro perché purtroppo viviamo in un mondo in cui è meglio che lavorino due persone invece che una e il figlio ci può anche sempre aspettare se magari uno ha raggiunto un po' la sicurezza economica può poi decidere di avere un figlio dopo magari anni che lavora quindi magari ci può pensare Secondo me la ragazza ha fatto benissimo sono cose che dovrebbero essere rispettate e che non devono interferire più di tanto con un discorso lavorativo Secondo te è giusto che una ragazza rinunci alla propria voglia di maternità per evitare di perdere il posto di lavoro? No, è sbagliatissimo è sbagliatissimo e infatti i datori di lavoro o chi dovrebbe dovrebbero organizzarsi in modo da non spingere ragazze a rinunciare alla voglia di maternità Quindi deve essere in un qualche modo tutelata Assolutamente sì Se la tua ragazza decidesse eventualmente un giorno di rinunciare alla maternità tu cosa le diresti? Proprio per evitare di perdere il lavoro? Io le direi che ovviamente è una sua scelta personale che con il suo corpo, con la sua vita può fare quello che ritiene più giusto però la spingerei sicuramente a rifletterci secondo me è veramente brutto dover fare una rinuncia di questo tipo non dovrebbe capitare